La maggior parte di noi, di estracomunitari, di rifugiati, di clandestini, come volete chiamarlo, noi siamo qua per dare una mano. La cosa importante è quella perché se dobbiamo vedere i fatti, l'Italia è il primo a dare una mano ai migrati che arrivano, che sbaccano nei vari mari italiani. Quindi già questa cosa è una cosa importante anche per noi immigrati. Quindi in compenso noi saremo sempre pronti per dare una mano. Credo che l'Italia sta vedendo questi immigrati, questi stracomunitari come una minaccia. Però secondo me non è un'amminaccia, dobbiamo solo cercare di convivere insieme come una comunità perché io la differenza tra un immigrato e un italiano non la vedo così tanto lunga. Perché se un immigrato riesce a integrarsi, ha i documenti, se lavora abbiamo i stessi diritti. Non so, se abbiamo i stessi diritti, è qua in Italia. Quindi il mio appello è che tutta l'Italia capisca che l'immigrato è qua per dare una mano, non solo, anche per aiutare i cittadini o i ragazzi a migliorare questo paese. Saluto a tutti i partecipanti al Congresso Nazionale della Vispa. Come sapete il simbolo del liberenante su casa maya è una tataluga. Visto il passo piano piano che si fa, io regalo casa maya a ciascuno di voi come il nostro piccolo passo di aiuto che possiamo dare.